La città di Locri ricorda i caduti di Nasseria, vittime dell'attentato terroristico del 12 novembre 2003 che costò la vita a 19 italiani impegnati nella missione di pace in Iraq. Una santa messa celebrata nella chiesa di San Biagio per un momento di riflessione e preghiera per ricordare i caduti, offrendo ai partecipanti un'occasione per rendere omaggio a coloro che non sono più tornate alle loro famiglie. Alla funzione religiosa è seguita la cerimonia di deposizione della corona in piazza Nasseria, il luogo simbolico che Locri ha dedicato a questi eroi. Il sindaco Giuseppe Fontana, accompagnato da autorità civili e militari, ha deposto una corona di fiori ai piedi della targa commemorativa, un giusto semplice ma carico di significato per onorare la memoria di chi ha perso la vita lontano da casa. Il dovere di ricordare, di custodire, di tramandare la memoria di quegli eroi che persero la vita il 12 novembre 2003 e che erano impegnati in una missione militare ma anche in una missione umanitaria. E lo facciamo affinché l'esempio di dedizione assoluta alla patria, al bene comune, sia sempre vivo e soprattutto rappresenti un faro per le future generazioni. Come dice spesso Mattarella, senza memoria non c'è presente e non c'è futuro, ma è anche l'occasione per rinnovare il nostro impegno a costruire una società migliore, poggiata su concetti e su valori come la pace, come la giustizia e come la solidarietà.